se stai guardando questo video molto probabilmente hai un problema comune a tante persone ovvero gli amanti dell'arrosto gli amanti della carne fatta nel barbeco molto spesso hanno il problema del vicinato il vicinato spesso non apprezza il fumo e bene fatto facendo il barbero ed è brutto doversi privare di un piacere tipo la carne arrosto la fatta nel barbero solo perché abbiamo riuscito delle persone a cui anche giustamente magari da da fastidio il fumo nella stanza abbiamo voluto trovare una soluzione a questo problema sfruttando il forno per fare il barbeco con il set barbeco inclinato tipo la cottura inclinata è tipica dei paesi dell'est e come si riesce a fare un barbeco dentro il forno senza fare fumo questo è possibile perché nella fedia di cui ho composto il set si si mette dell'acqua si mette dell'acqua e sopra ci si mette il treppiede con la casella di quelle più classiche di misura adatta per sfruttare al meglio le dimensioni interne del forno inclinata la braccia si mette tutto intorno o anche solo su un lato va ben visto e si mette all'interno cosa succede la differenza tra il barbeco normale e questo tipo di barbeco fatto dentro il forno è che nel barbeco tradizionale il grasso che ora dalla carne va a finire la traccia questo proprio a fumo che va addosso alla carne oltre che a fare tanto fumo l'annerisce gli dà quel sapore a mano invece in questo caso il grasso cala nell'acqua cala nell'acqua fa evapolare l'acqua il vapore non crea fumo e di conseguenza passando nella carne rende morbida la carne in un modo evitabile senza l'annerile senza darle il sapore a marugno crevetti più di barbe comuni insomma per girare si tira fuori e gioco fatto buona rostra a tutti